A due mesi dall'entrata in funzione della nuova sala di mongitura robotizzata, i ragazzi dell'Istituto Agrario Duca degli Abruzzi hanno sperimentato collezioni pratiche in queste settimane e cosa significa portare avanti l'azienda agricola interna alla scuola utilizzando le nuove tecnologie. Il macchinario, installato a settembre grazie ad un contributo della provincia, non è soltanto uno strumento didattico e produttivo importante, unico in tutta la regione, in una scuola superiore, ma è anche strettamente legato al tema del benessere animale. La mucca impara ad entrare nella sala da sola, il sistema automatico prepara la mongitura con un livello di igiene, efficienza e benessere per l'animale che risulta molto meno stressato fisicamente e mentalmente. Il benessere animale è un qualcosa che a lungo termine, se si ha un occhio lungo, va a ripagare. Insieme al dirigente del servizio veterinario dell'USL 6 Ugane, gli studenti di quarta e di tre quinte della scuola, che il prossimo anno festeggia il 150esimo anniversario della fondazione, hanno svolto una lezione specifica sul benessere degli animali per imparare così nuovi metodi per la gestione dell'allevamento. Gli investimenti importanti è bene farli nelle nuove generazioni con una formazione sempre più accurata e sempre più attenta per formare cittadini consapevoli nei consumi, ma anche negli utilizzi di animali e di piante.